In questi due casi oggi abbiamo deciso in una riunione di bloccare le antenne, quindi stamattina in autotutela viene fatto un provvedimento, penso sia pronto fra poco, dove noi ascoltiamo i cittadini e siccome uno dei difetti di tutte queste procedure era quello di non aver fatto le pubblicizzazioni previste per legge, quindi noi blocchiamo tutto, ci mettiamo a tavolino con Wind e vediamo. Usando una metafora calcistica si potrebbe dire cittadini contro Wind e 3, 1 a 0. Dalle proteste si passa a fatti concreti per cercare di valutare quanto la realizzazione in corso delle antenne di telefonia mobile sul territorio comunale di Pescia, una a Beneri ed una ad Aramo, abbiano seguito il percorso giuridicamente corretto. Il provvedimento della giunta va proprio in questa direzione. La giunta non sapeva nulla perché sulle antenne ci sono delle procedure previste dalla legge Gasparri dove sostanzialmente l'ARPAT definisce se ci sono incongruenze legate alla salute. Noi abbiamo saputo che c'erano due richieste di antenne, una a Aramo e una a Veneri, fratto su quella a Veneri era sul Colle del Lupo in una zona bellissima e noi avevamo già visto se era possibile spostarla all'ex carcere, cioè dove abbiamo un terreno del comune e quindi in una zona non di rilevanza paesaggistica. L'altra cosa che volevo dire è che noi siamo fra i 500 comuni in Italia, su 8.150, che hanno fatto a fine anno una delibera dove dicono che il nostro comune è no 5G. Cioè fino a che non si saprà se il 5G fa male o non fa male, finché non ci saranno certezze sul 5G, il nostro comune, abbiamo fatto una delibera, farà di tutto per non far venire nel nostro comune il 5G. Non siamo contro, però vogliamo essere sicuri che quella tecnologia lì nuova, che non è il 4G o il 3G, non faccia male ai nostri cittadini.